Superata Times Square e Datt Square, ora ci troviamo precisamente allo Schubert Alley, il centro geografico del quartiere di Broadway. Qui siamo proprio al centro di Broadway. Vi faccio vedere il vero. Ed eccolo qui. Questa è proprio il centro di New York. Questa è la parte che abbiamo lasciato a Times Square. Ed è proprio qui. Ora continuiamo il tour. Ci vediamo.